Buonasera, grazie. Non essendo molto abituato a questi riflettori vorrei iniziare con delle domande direttamente per voi, potete rispondere semplicemente alzandola a mano. Quanti di voi ordinano la pizza telefonando al pizzaiolo di Fiducia? Praticamente tutti. Quanti di voi invece ordinano pranzo e cena online? Troppo pochi, qualcun altro? Ok. Quanti mangiano grilli? Due. È la stessa reazione che avevo anch'io quando in Asia mi offrivano degli alimenti particolari, insomma. Dopo diversi anni in Asia sono tornato in Italia per seguire un'idea che ha a che fare con il futuro dell'alimentazione, ovvero cibo sano, personalizzato, consegnato a domicilio. Ci sono tre importanti trend in questo, ovvero il cibo a domicilio, il cibo personalizzato e il cibo sano. Sono tutti trend che nascono dal mondo digitale, però vorrei fare una premessa. Quando parliamo di come il digitale cambia le nostre abitudini oggi, non possiamo più pensare al digitale che opera in un unico verso, in quanto il digitale oggi è parte fondante delle nostre abitudini. Immagino che tutti voi facciate qualsiasi cosa con lo smartphone oggi. Quindi va inteso non più come un'unica direttiva, ma come un circolo. Quindi quando il digitale entra in gioco le abitudini cambiano, ma il digitale stesso evolve e le abitudini cambieranno ancora, con tantissime correlazioni in tantissimi ambiti. Pensate a dieci anni fa, quando se avevate fame e non avevate nulla in frigo, l'unica soluzione che potevate avere era o uscire e andare a cena, oppure appunto chiamare il pizzaiolo. Oggi invece sul vostro smartphone avete pressoché l'offerta totale della città. Quindi se avete voglia di riso, patate e cozze, di orecchiette, di cime di rafa, qualunque cosa, pizza, focaccia, in mezz'ora sono a casa vostra. Questo ha un impatto sulle abitudini molto più profondo di quello che pensiamo. Si sta di più a casa e si va molto meno al ristorante. Questo grafico che vedete, il colore scuro è gente che mangia online, mentre il colore chiaro è gente che mangia al ristorante. Quindi si stima che nel 2020 ci saranno più persone che mangeranno a casa, ordinando online, piuttosto che persone che andranno al ristorante. Cosa vuol dire questo in termini di ristorazione? Vuol dire che i ristoranti saranno sempre più piccoli, quindi non avranno più bisogno degli spazi che hanno oggi, e in alcuni casi ci arriverà addirittura a non avere il ristorante. Quindi le cosiddette dark kitchens o ristoranti digitali, ovvero delle cucine che non hanno il ristorante, ma fanno solo servizio a domicilio. Ancora si cucina molto meno. Tra un'indagine fatta negli Stati Uniti, tra i millennials, ovvero tra i giovani tra i 20 e i 35 anni, è emerso che cucinano a casa un'unica volta a settimana, ovvero un pasto su 14, includendo tra questi pasti anche prepararsi l'insalata o riscaldare qualcosa al microonde. Questi trend sono fortemente intersecati anche con uno dei problemi più rilevanti che abbiamo e che avremo nel mondo, che è quello del sovraffollamento. Ci sono molti contesti in cui lo spazio è veramente un lusso. A Hong Kong, se provate ad affittare una stanza, vi danno 15 metri quadri per 1500 euro. A Tokyo, se dovete prendere un hotel, state attenti a non prendere lì hotel a capsula, se no dormirete per una notte in una capsula di plastica di due metri per uno. In tutti questi contesti dove lo spazio è veramente scarso ed è quindi una risorsa molto preziosa, a cucina sarà, ed è anche parzialmente, un lusso. Quindi man mano che la popolazione aumenterà sempre più, le cucine diventeranno sempre più rare e si andrà verso un concetto di casa senza cucina. In Africa, dove si pensa che ci sia il più grosso boom demografico dei prossimi anni e le città arriveranno a contenere 50 milioni di persone, probabilmente le case non avranno cucine. Noi viviamo oggi in un mondo che è particolarmente digitalizzato. È un mondo molto digitalizzato in cui si può ottenere tutto e subito. È il mondo di Amazon in cui se uno vuole qualcosa va online in poche ore alla sua porta. Cosa c'è ancora? Cosa si può fare oltre il tutto e il subito? La risposta è personalizzare. La personalizzazione viene concessa grazie appunto allo sviluppo digitale, in quanto grazie agli algoritmi e alle intelligenze artificiali si può oggi elaborare un'infinità di dati in tempo reale, cosa che prima non era possibile dare un'esperienza all'utente assolutamente diversa dall'esperienza di qualcun altro. E questo è il più grosso sviluppo che ci sarà nel mondo dell'e-commerce in futuro. Nell'ambito nutrizionale cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso dei test si può arrivare a personalizzare un menu o a personalizzare alcuni piatti, proprio per essere più coerenti con le necessità. Attraverso un test nutrizionale in cui il cliente compila tutte le informazioni personali o i dati o le preferenze eccetera eccetera si possono consigliare alcuni piatti oppure si può personalizzare appunto un menu, una dieta ad hoc. C'è anche chi in America lo fa analizzando il corredo genetico, quindi analizzando il DNA, ma la nutrigenetica diciamo è una scienza che sta ancora consolidandosi insomma. Il cibo personalizzato di per sé è anche cibo sano, perché chiaramente personalizziamo per dare il meglio all'individuo. Dicevamo prima che c'è una grandissima facilità di acquisto oggi di cibo. Questo è anche problematico, perché chiaramente la disponibilità di qualunque tipo di cibo può avere degli effetti negativi. Infatti nella prima fase del food delivery l'offerta era pressoché di massa, quindi fast food, kebab, pizze, quant'altro, patatine eccetera eccetera. Questo ha avuto chiaramente degli effetti negativi sulle abitudini alimentari e un peggioramento di quelli che erano già dei dati abbastanza brutti, ovvero quelli sui tassi di obesità e sovrappeso. Questo è stato particolarmente grave negli Stati Uniti, dove addirittura il governo Obama con l'Università di Harvard sono intervenuti con una campagna chiamata Choose My Plate per sensibilizzare l'opinione pubblica verso una sana e corretta alimentazione, riprendendo un po' quelli che sono i temi e i principi della dieta mediterranea e del piatto unico bilanciato, ovvero un piatto composto da cereali, verdure e proteine, che per noi è abbastanza ovvio ma non per tutti. Quindi l'altro tema che vedevamo prima è quello del sovraffollamento. Man mano che la popolazione aumenterà, come dicevano tutti gli altri, le risorse diminuiranno. Pesce, carne saranno sempre più rari, anche a chi no, all'avocado che vanno tanto di moda ora, saranno sempre più rari e più costosi. Servono delle alternative che possono sia essere prodotte in laboratorio o che vengono da contesti differenti, quindi da abitudini alimentari di mondi a noi lontani, come per esempio l'Asia. E qui si inserisce il grande tema degli insetti come cibo del futuro. È un cibo sostenibile, profittevole, nutriente e sano. Per questo possiamo dire che il futuro sarà fatto da cibo sano, personalizzato e preferibilmente consegnato a domicilio e sarà abbastanza ironico e strano tra 30 anni ordinare degli insetti online come se sia una cosa ovvia. Grazie. Grazie.